Ciao e benvenuti a tutti, questo è il tutorial e vi mostrerà come inserire i propri badge sul profilo LinkedIn. Ecco tutti gli step da utilizzare. Come primo step dovete entrare sul profilo LinkedIn, cliccare sul profilo e sulla dicitura modifica profilo. Una volta fatto ciò scorrete e trovate praticamente il format formazione. Adesso cliccate sul tasto inserisci media. A questo punto bisogna importare il proprio badge. Possiamo scegliere fra due modalità. La prima è caricarlo direttamente dal pc e importare il proprio badge, aspettare che LinkedIn rindirizzi il badge e inserire poi tutti i dati utili. Come dati utili vedremo fra un pochino che è necessario inserire il titolo e la descrizione. Quest'ultima, la seconda è opzionale, mentre il titolo è obbligatorio per proseguire il processo di inserimento. Adesso possiamo salvare oppure annullare. Noi annulleremo perché non ci interessa. Come seconda opzione possiamo inserire il badge attraverso proprio un indirizzo. L'indirizzo che dobbiamo inserire è quello di Backpack. Entriamo sul nostro profilo, andiamo sulle collezioni, inseriamo il nostro badge che vediamo, trascinandolo e inserendo il proprio titolo. Adesso dobbiamo renderlo pubblico perché se è privato non può essere condiviso. Clicchiamo su condividi e adesso possiamo praticamente copiare e ingollare il nostro indirizzo, inserirlo sul format di LinkedIn e andare sul tasto conferma. Aspettiamo qualche minuto, qualche istante e come nel primo caso dobbiamo inserire un titolo che è obbligatorio, mentre una descrizione che anche adesso è opzionale. Quindi possiamo anche non inserirla. Adesso possiamo cliccare sul tasto aggiungi al profilo, se siamo certi. Possiamo aggiungerlo. Adesso aggiungiamolo. E adesso il vostro badge sarà visibile sul vostro profilo LinkedIn. Ciao! È finito il tutorial perché adesso abbiamo il nostro badge su LinkedIn. Buona giornata!